Le previsioni meteo sono vento da sud-est 3, collocare gli inforzi, cielo sereno, visibilità buona, mare poco mosso ma in aumento. Quindi il weekend che ci aspetta sarà caratterizzato da giornate soleggiate con temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi. Ricordiamo ai diportisti di porre attenzione al rispetto delle norme vigenti e di prestare massima prudenza alla condotta della navigazione. Per qualsiasi necessità è possibile mettersi in contatto direttamente con la capitaneria di Porto più vicina attraverso il numero blu 1530 attivo 24 ore su 24 e raggiungibile con telefono fisso o con telefono cellulare. La guardia costiera, come è noto in questo periodo, è impegnata nell'operazione nazionale mare sicuro, cioè la tutela della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione in genere. La particolare attenzione è rivolta soprattutto al rispetto dei limiti di velocità e al limite della navigazione, ovvero il rispetto della fascia dedicata esclusivamente alla balneazione e soprattutto in costiera massitana ha il rispetto dei divieti di ancoraggio nelle zone non consentite.